Molto probabilmente vi starete chiedendo come mai hai messo questo titolo Io vi dico solamente di guardare il video e poi capirete il perchè Vi raccomando lasciate tanti bei like Perchè se superiamo i 30 mi piace vi carico dopo domani un video dell'RDT in survival Quindi lasciate tanti bei like e mi raccomando Ciao Bella a tutti che sono RDT e oggi siamo Ritalin e l'RDT in survival Nello scorso video dell'RDT in survival ce l'avevamo lasciati qui nel deserto Sempre in cerca della nostra grandissima E' vero che è tanto che si qua troppano pure le cose Comunque oggi appunto andremo alla caccia Vabbè non è io dico alla caccia perchè siamo appunto siamo nel deserto E quindi avrei voglia di incontrare la piramide Però anche se non ne continuiamo dai shalla andremo sempre a trovare la clay Quella grandissima la clay Poi c'è anche questa cosa qui che è veramente bella Purtroppo non ce n'è tanto in un deserto e non so neanche se si può craftare Però me la prendo perchè tipo per fare qualche cosa Non male non male Allora saliamo E' stata brevissima questa situation Non ci credo L'abbiamo trovata No vabbè ragazzi l'avevamo sotto gli occhi e neanche l'avevamo vista No vabbè non ci voglio credere Non ci sembra fa Giuro sembra fatta apposta Sembra fatta apposta Allora dormiamo No 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 Ragazzi giuro che sembra fatta apposta Ma non l'avevo vista Non l'avevo vista Se no non avrei avuto questa cazzo di reazione No vabbè sono contento No vabbè No basta basta Posso concludere qua anche questo video Se il video vi è piaciuto lasciate un like Un commento Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto La posso affostare a DT E ciao No ovviamente mi sto prendendo per il culo Però ragà No vabbè bellissima E' l'altra torre ma Ecco Oddio c'è anche l'entra No vabbè Andiamo andiamo Sono curiosissimo Ma questa qui è lana vero? Si questa qui dovrebbe essere O è lana o è Aspetta Via via questo Argilla Argilla E io me la prendo tutta l'argilla No Oh merda E' vero cazzo Stanno ste cose Con calma Ci facciamo una scaletta Giusto perché Ce la dobbiamo fare raga Non dobbiamo assolutamente rischiare Ecco la DT Bastardissima Bastardissima E io me la prendo tutta questa DT raga Ah donna che bello Quanta DT per noi Ora però ci prendiamo Le cose che stanno dentro la cesta Prima cesta Oh Sì Oddio santo Sì Sì La sella La sella L'abbiamo persa nello scorso episodio L'ho ritrov... No vabbè No Basta Basta Ma che culo di merda Che... Madonna mia Madonna Ma dove minchia Me la metto mo sta sella Qua ho i libri Me la metto Me la metto Me la metto Mi tolgo questo qui Dai Vai Altra La mela d'oro La super mela d'oro è questa raga Questa è la super mega Quella là d'oro Ma non è quella normale Se non mi sbaglio Ma questa qua è quella là tipo che ti dà un bordello di vita Questa qua lo usiamo quando andremo a sconfiggere le del dragon Io ve lo dico Altra sella Madonna mia madonna Finalmente possiamo mettere due selle ai nostri carissimi animali Vabbè animali cavalli Vai Altra cesto Libro con fiamma Che cazzo è qua fiamma Io me lo prendo Non si sa mai eh Dai però almeno un diamante me lo date Un diamante No Fortuna del mare 3 Ma cosa mi danno Ma cos'è questa fortuna del mare 3 Ma Boh Vabbè Ah praticamente qua ci sono delle scale Ah figo Ah che ti perdi Ah ti portano anche sopra Non lo sapevo sta cosa Davvero davvero spettacolare Spettacolare Questo episodio è iniziato benissimo Ricordatevi un po' com'è che finirà Abbiamo trovato anche le selle Ora basta trovare anche un cavallo Io continuo con i cavalli Eh lo dico io Dai un'altra piramide Dai fammi sto regalo Per favore Due piramidi in un solo episodio Per favore Ah villaggio Ma è quello di primo o sbaglio? Cioè quello là Dello scorso episodio Molto probabilmente Perché è strano eh Nello scorso episodio ci eravamo proprio fermati qua vicino eh Ok raga Aspettate un attimo perché Qui non so se È una cosa nuova Ma no qui Qui è un altro villaggio raga No vabbè No non ci posso Non ci posso credere Altre librerie Raga ma non ci voglio credere Ma che fu Ma che culo ho E' già che mi trovo Fabbro Non mi inchiassate Fabbro Fabbro Già che sto Qua ci sono delle fornaci Mi metto a cuocere Un qualcosa Mi sembra ovvio Mi metto a cuocere 43 di manzo crudo Vediamo un po' cosa c'è Boom Va bene Mele E un caschetto in elmo Che quasi quasi Me lo tengo Vabbè dai Me lo tengo Non si sa mai Raga davvero raga Io Nello scorso episodio Mi stavo Disperando No la sella La sella E poi l'ho trovata adesso Ma va bene Magari vorrei cambiare biome No sai perché La sabbia Dopo un po' Roppe Il cazzo Però Raga quanto Ne vorrei trovare un'altra Davvero Ne voglio proprio trovare un'altra Magari trovare dei diamanti Che ne so Però se me ne fai trovare un'altra Sarei veramente molto contento E però sei Eh vabbè si Buonanotte Per fortuna che nell'1.9 Rigeneri subito la vita Ed è buono così No raga un altro Un altro Una No vabbè No vabbè raga No basta Basta Guardate un altro Ne ho trovato Nello stesso coso Del deserto Non è che tipo Mi sono allontanato di tantissimo È sempre questo il deserto E ne ho trovati due Scendiamo Scendiamo di nuovo Altra dnt per noi E che cazzo posso dire Eh o mica la butto stati netti eh Vai prima Altro libro Affilatezza 2 Mmm buono buono Altra cesta Eh vabbè ma quante ossa Eh vabbè ma sei gentilissimo Che te posso dire Uh Ah bardatura di ferro Per cavallo Oh sì Com'è bella Ciao bardatura Vediamo questo Vediamo questo Ancora un'altra bardatura Per l'altro cavallo Tanto Buono 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 Mi piace Ultima Ancora bardatura Vabbè basta No è cagato il cazzo Mamma mia Mamma mia raga Tantissima ro... No 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 Basta Basta No no Non è possibile Non è possibile Un altro villaggio Ma cos'è oggi No ma io questo video Non metto nessun titolo Perché Devono assolutamente vedere Quanto cazzo di culo ho Ho trovato un altro villaggio Due piramidi Due villaggi Ma cos'è Ma cos'è Ma quanto culo ho Uh l'asini Gli asini Raga Raga gli asini Uh l'asinetto piccolo Che figo No posso caloppare con la Ah Quanto sei bella amico mio Quanto sei bello Quanto ti voglio bene Lo sai vero Vabbè dai Questa qua me la butto Ti posso caloppare No non posso A te posso Posso il asinello Sì posso caloppare l'asino Che non salta per un cazzo Raga proprio per adesso L'asino me lo tengo io No raga davvero Niente dai Io vi ringrazio Per aver visto il video Fino a qui Con minecraft che lagga Però ci sta Che si vede che Molto probabilmente Sta caricando davvero Così tanta roba Perché guardate Quanto cazzo mi sta caricando Porca merda Mi sta davvero caricando Tantissima Tantissima roba Niente Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Un commento Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Vi raccomando Lasciate tanti bei like Per sostenere la serie Di RDT in survival Niente La vostra posta è RDT E ciao Ciao